Allora, buongiorno a tutti, buongiorno a chi è in presenza e buongiorno agli amici collegati via collegamento telematico. È un bel giorno per la nostra regione, per la provincia di Pesaro Urbino e per il comune di Fano perché diamo avvio alla firma del protocollo tra la regione Marche e il comune della ciclovia del comune di Fano sulla ciclovia del Metauro, un progetto che la regione definisce come modello innovativo per tutto il sistema delle ciclabili marchigiane. La ciclovia del Metauro diventa un simbolo nella provincia di Pesaro Urbino, soprattutto come un vero e proprio modello di raccordo tra le esigenze. È una delle più belle città sulla costa della nostra regione, Fano, che ha un'antica storia, e quindi come raccordo tra il mare, il centro storico, il parco dell'aeroporto, su cui il comune ha un progetto molto importante, il quartiere di Sant'Orso, ne parlavamo poco fa con l'assessore, che è uno dei quartieri, se non il quartiere più popoloso della città di Fano, la piscina che verrà realizzata dal comune di Fano, la nuova piscina, e poi con gli altri comuni lungo il Metauro, da una parte fino ad arrivare a Durbino, dall'altra fino ad arrivare a Cantiano. E già abbiamo parlato con gli amici della regione Umbra per creare una sinergia affinché questa ciclovia non si fermi nelle marche, ma prosegua verso l'Umbria e poi verso la costa tirrenica. Avete capito che a fianco alla grande battaglia che stiamo conducendo sulla Fano Grosseto, conduciamo un'altra battaglia sulla mobilità sostenibile, sulla valorizzazione del turismo, sulla valorizzazione delle nostre bellezze architettoniche, storiche, ambientali, anche con la mobilità sostenibile. Quindi una nuova ciclovia che sia turistica, una ciclovia del divertimento, una ciclovia urbana. Ne parlerà poi il sindaco che ha una forte caratterizzazione, avrà una forte caratterizzazione grazie ad un finanziamento che permetterà a Regione Comune di Fano di realizzare anche un'opera infrastrutturale all'avanguardia. Il nuovo ponte in acciaio sulla superstrada e sul canale Albani che risolve un problema storico di collegamento tra alcune zone importanti della città di Fano. L'investimento è un investimento perché 4 milioni e mezzo iniziali, se ne aggiungono altri due della Regione Marche, quindi arriviamo a 6 milioni e mezzo, più altri finanziamenti per il parco delle Cesane, quindi un investimento importante sulla Valle del Metauro che vede Fano come apripista con la firma oggi del protocollo sulla ciclovia. Lasciatemi dire che dopo tante parole, chilometri di parole, Comune di Fano e Regione Marche oggi fanno i fatti. Nessun metro fino ad oggi di ciclovia del Metauro, oggi con la firma e la sottocostruzione del protocollo, iniziano i fatti e finalmente qualche cosa di concreto, ossia la realizzazione della ciclovia. Ora passo la parola al Sindaco Seri, al quale sono legato per molti anni di battaglie comuni, anche sulla sanità nella conferenza dei sindaci. Quindi il rapporto tra l'assessore e l'infrastruttore della Regione Marche e il Sindaco di Fano è molto diretto, anche a volte su diversità di posizioni, differenze di posizioni, ma sempre molto franco. E questa franchezza ci ha portato alla firma di questo accordo molto proficuo per la provincia di Peserrubino e Metauro, la città di Fano. Grazie Sindaco. Grazie Assessore, mi ritrovo nelle parole che ha detto, non di lode nei miei confronti, ma riferite all'infrastruttura. E la prima parola che mi viene in mente è concretezza, che unirei con dialogo e collaborazione. Concretezza perché lo diceva molto bene, al di là di, sono alcuni anni che si chiacchiera, si parla, si fa un passo avanti e due indietro, oggi c'è un'assunzione di responsabilità e di concretezza, perché si attua un percorso, che è un percorso di valorizzazione, come dicevo, di dialogo fra un territorio, ma che non è semplicemente circoscritto, ma sta in una rete, sta in una visione, una progettualità più ampia, che si lega alla vallata del Metauro, ma che vorrei dire si lega anche all'Adriatico, alla ciclovia dell'Adriatico, ovvero questo protocollo non parla solo della ciclovia del Metauro, ma si lega anche al ponte, all'attraversamento ciclabile del fiume Metauro. Devo anche aggiungere che quando si vogliono le cose, si danno anche segnali concreti. E un altro segnale concreto a cui va un ringraziamento, perché non era scontato e non è banale, sono risorse aggiuntive che sono state incluse in questo progetto, perché si vuol dare anche un valore, non voglio dire estetico, però di funzionalità, ma anche trasmettere un messaggio forte, perché veniva citato un elemento che caratterizza questo intervento, è l'attraversamento, il ponte, della superstrada del Canale Albani. Quindi non è solo una infrastruttura, ma è una infrastruttura in sicurezza, che dialoga con il territorio, che valorizza le altre infrastrutture, e si lega ad un altro investimento importante che il Comune di Fano fa, che è il grande parco dell'aeroporto, nella quale ci sono una serie di servizi, vicino c'è la piscina, lega i quartieri popolosi, tra loro, che fra l'altro vedevano in tante occasioni anche richiamare l'attenzione per una maggior sicurezza dei pedoni e dei ciclisti. Un ringraziamento a chi ha lavorato concretamente anche nel dialogo, perché questo progetto non è un progetto imposto, ma è un progetto che ha visto un confronto. Qui c'è l'assessore ai lavori pubblici, Fabio Latonelli, il dirigente Goffi, e devo dire, poi la spinta importante, l'assessore Baldelli, come diceva prima, ci conosciamo, abbiamo condiviso esperienze nella schiettezza e nella franchezza, però c'è sempre distinto il senso di responsabilità e l'operatività. E questo è un elemento, ma soprattutto è un intervento che dà valore ad un territorio. Sta in una progettualità più ampia che diventa un'attrattività, un servizio per chi vive il territorio, ma è un servizio anche attrattivo di accoglienza per chi sceglie le nostre realtà. Vado un po' fuori tema, però voglio ringraziarlo perché in questo ci sta anche i ragionamenti che si fanno su altre infrastrutture, cominciare quello del dorsale adriattica della ferrovia perché hanno capito bene qual è il valore di quell'infrastruttura, qual è il valore di questi territori. Io ho apprezzato molto anche la presa di posizioni e il lavoro, il coinvolgimento che c'è stato 24 ore fa, ma anche il lavoro che stanno facendo in questi giorni e quelli che verranno. Per cui un applauso, un ringraziamento e dico, mi viene da dire, anche una best practice perché quando dialogano le istituzioni, dialogano gli amministratori, c'è un senso di responsabilità, ma soprattutto c'è una visione e l'obiettivo di fare cose importanti e concrete, questi sono i risultati. Grazie per il tuo intervento, le tue parole Massimo e ti confermo anche in questa occasione che la Regione Marche, l'assessorato all'infrastruttura, sarà irremovibile sulla ferrovia adriatica per quanto riguarda il Comune di Fano e tutti gli altri comuni che se non inclusi in una visione di valorizzazione del territorio e dei trasporti della nostra Regione non potrà questa Regione acconsentire ad un progetto che danneggia alcuni territori della nostra Regione tra cui la città di Fano. Ritornando alla ciclovia del Metavoro ho il piacere di passare in rappresentanza di tutto l'ufficio dell'ingegner Arabi che ha lavorato intensamente su questo progetto con passione percorrendo anche tutto il tratto della ciclovia cercando di risolvere i problemi l'ingegner Ciani che comunque insieme a noi collabora con l'ingegner Arabi e il direttore del Dipartimento l'architetto Goffi che ora ci darà alcune indicazioni sulle caratteristiche sui numeri di questa ciclovia. Grazie architetto grazie ingegneri. Grazie assessore alcuni aspetti importanti il primo è il tema delegato alla ciclovia adriatica perché con questa convenzione noi ci attiviamo insieme al Comune di Fanno per la realizzazione del ponte sul Metavoro ma sotto questo profilo è importante precisare il ruolo della Regione Marche che è la Regione capofila della ciclovia adriatica quindi la Regione Marche ha progettato ha gestito l'incarico e il progetto per quanto riguarda la ciclovia adriatica al Gargano per noi che abbiamo anche ottenuto dei finanziamenti eccezionali per la ciclovia adriatica questo diventa come dire un elemento fondamentale perché sappiamo che i ponti sui fiumi principali sono gli elementi più difficili più onerosi da gestire e quindi diventa proprio un elemento un ponte per la continuità della ciclovia adriatica in questo caso a nord della Regione Marche perché abbiamo i tratti già realizzati il collegamento con Fano Pesaro dei tratti in fase di realizzazione Marotta Ponte Sass sotto rette e sotto questo profilo per noi è per l'assessore e per l'ufficio è un punto importante perché vuol dire attivarsi in maniera come dire preventiva in maniera veloce per eliminare le barriere principali e quindi l'investimento è un investimento dove oltre alla funzionalità diventa importante come per altri ponti anche la parte estetica anche la parte proprio legata al paesaggio a quello che si vedrà passando sul ponte per quanto riguarda la ciclovia del Metauro il tratto franese vale circa 3 milioni e 900 mila euro quindi è un'infrastruttura importante anche economicamente ha un elemento eccezionale come è stato evidenziato dall'assessore e dal sindaco che è legato al ponte che passa sia le quattro corsie della superstrada sia il canale Albani e sia via Papiria quindi è un collegamento per una parte della città con un parco con il centro storico veramente pensato in acciaio è pensato con una larghezza di 3 metri è pensato con delle rampe facilmente accessibili uno dovrebbe quasi non accorgersi di salire per poi arrivare all'interno del parco dicevo l'investimento è di 3 milioni e 9 il tratto fanese è di oltre 5 chilometri di ciclabile che poi arriverà fino alla ciclovia adriatica il ponte ha una larghezza di 3 metri ed è in acciaio poi oltre a questo noi abbiamo chiaramente altri finanziamenti per continuare la ciclabile all'interno del territorio nel tratto fanese è più una ciclabile come dire urbana che va a collegare i quartieri e poi appena fuori di Sant'Orso diventa un pochino più extraurbana più territoriale dove l'aspetto del collegamento con le altre frazioni e i comuni diventa l'aspetto prevalente e l'obiettivo della regione è anche quella di come dire ragionavamo con l'assessore è quello di far sì che la ciclovia abbia veramente una scala territoriale fino a raggiungere le eccellenze naturalistiche del furlo delle cesane e anche i collegamenti con le altre regioni grazie Architetto avete capito che c'è un elemento identitario forte di questa ciclovia che sarà a Fano in questo collegamento tra Sant'Orso il parco urbano di Fano e questo elemento identitario lo ritroveremo lungo il percorso perché vogliamo arrivare alla gola del furlo dove già esistente ciclovia è impensabile avere una ciclovia che deve collegare la valle del Metavolo e non arrivare a Possombrone e Acqualagna e quando siamo arrivati ad Acqualagna vogliamo arrivare ai confini dell'Umbria perché questa non è una ciclovia ad oggi prevista tra i grandi ciclovie nazionali ma lavoreremo con i finanziamenti della regione e devo dire con la grande collaborazione dimostrata al comune di Fano perché questa ciclovia nel tempo già degli accordi con la regione Umbria sono sul tavolo possa collegare le marche all'Umbria e poi dall'Umbria arrivare al terreno la grande battaglia del superamento dell'isolamento e la necessità di attrarre nuovi flussi economici e turistici lo si fa con la Fano Grosseto lo si fa con la ciclovia lo faremo con le infrastrutture ferroviarie perché l'ho detto ieri noi non amiamo i solisti ma a noi piace il gioco di squadra e anche in questo caso amministrazione regionale e amministrazione di Fano hanno realizzato un ottimo gioco di squadra con un progetto lo diceva prima Massimo Seri non imposto ma condiviso nato anche da tanta fatica effici degli assessori del sindaco e della struttura regionale per questo io vi ringrazio e ora passiamo con Massimo Seri alla sottoscrizione di questo protocollo che come diceva prima il sindaco non riguarda solo la ciclovia del metauro ma riguarda anche la ciclovia adriatica quindi all'interno anche la costruzione del nuovo ponte che supererà il metauro e consentirà il collegamento tra Fano e il resto della ciclovia verso sud io mi sono dimenticato di vedo dei giornalisti collegati se ci sono domande sì se è possibile le faremo volentieri prego credo Lorenzo Furlani sì buongiorno a tutti saluto l'assessore il sindaco anche il dirigente con cui non abbiamo mai avuto l'occasione di incontrarci personalmente ma delle cui opere abbiamo varie volte scritto allora volevo se è possibile rivolgere una domanda mettendo insieme come interlocutori nella faccia unica il comune e la regione è stato detto un passant più di una volta però volevo rivolgere al sindaco una domanda esplicita per chiedergli se nell'amministrazione comunale a Fano in generale ma nello specifico nell'amministrazione che lui guida sono state definitivamente superate le riserve che in più modi e anche con toni polemici neppure troppo tempo fa erano state espresse sulla scelta di superare il precedente progetto di ciclovia che correva parallelo alla ferrovia Fano Urbino e ricordo che sono state fatte manifestazioni c'è un comitato molto attivo che mi risulta non abbia desistito ancora dalla sua battaglia contro questo progetto a cui hanno partecipato in prima fila hanno partecipato amministratori del comune e assessori ricordo in particolare il vice sindaco e il risvolto di questa domanda è quello che chiedo all'assessore regionale all'infrastruttura Baldelli e dall'altro punto di vista visto che ha contatti abbastanza frequenti per varie questioni con il ministero e in particolare con rete ferroviaria italiana quali sono le notizie che provengono da Roma riguardo al recupero della tratta Fano Urbino e si è parlato da molto tempo ormai di uno studio di fattibilità finanziato con un milione di euro che doveva misurare la sostenibilità del recupero prima turistico e poi stato esaminato a tutto tondo anche per le implicazioni molto più interessanti di carattere commerciale e quindi che notizie ci sono riguardo alla possibilità concreta di un recupero considerando che chiudo oltre al discorso della ferrovia della dorsale adriatica molto rilevante per le marche riguardo alla promozione della rete ferroviaria è il progetto messo a fuoco peraltro proprio da questa amministrazione e in particolare dall'assessore Baldelli del cosiddetto annello ferroviario cioè un progetto per collegare le zone interne della regione non solo recuperando la Fano Urbino ma realizzando un bypass tra Pergola e questo percorso o a Fermignano o a Fossombrone al fine di connettere la Fano Urbino eventualmente recuperata con la Pergola albacina e quindi mettere in relazione con la dorsale adriatica anche le zone interne con un percorso e diciamo collegamenti chiaramente virtuosi laddove si deve in tutti in ogni modo trovare alternative alla classica mobilità veicolare che produce effetti come sappiamo clima alteranti inizio io rispondendo alla domanda che ha posto il giornalista Forlami che saluto intanto vorrei dire questa non è un'iniziativa individuale del sindaco ovviamente il protocollo è stato approvato in giunta e quindi è stato condiviso è una infrastruttura ed è stata condivisa l'importanza di questa infrastruttura il tema della ciclabile che fiancava la tratta ferroviaria ha visto anche me partecipare a quelle manifestazioni io stesso ho manifestato un desiderata e ritengo che possa essere anche questa una bella un bel intervento adesso attendiamo l'esito dello studio di fattibilità perché non dobbiamo dimenticare che non è che ce la cantiamo e ce la suoniamo da soli abbiamo un interlocutore che è RFI siamo su sedimi di RFI e bisogna essere autorizzati alla luce di quello che sarà l'esito se sarà possibile intervenire noi ci siamo già candidati ma ne abbiamo parlato anche con l'assessore ci faremo carico noi direttamente come amministrazione comunale quindi non è un'ipotesi archiviata ovviamente deve dialogare con quelle che sono le regole e le autorizzazioni perché anche la volta precedente con alcune problematiche che erano state poste poi sono prevenuti altri provvedimenti ci doveva essere un'autorizzazione di RFI a utilizzare il sedime quindi se domani questo è possibile noi abbiamo le risorse e ci candidiamo a realizzarla direttamente grazie sindaco ovviamente nella risposta del sindaco c'è già lo dico al dottor Forlani l'indicazione che normativamente in questo momento noi saremo stati nell'impossibilità si fosse stata l'idea della regione di realizzare sul sedime ferroviario una ciclovia tra l'altro mi sembra come autorevolmente proprio il suo giornale abbia sottolineato degli aspetti normativi che individuavano l'impossibilità al momento di realizzare sul sedime ferroviario la ciclovia di cui oggi stiamo ponendo per la quale oggi stiamo provendo i presupposti della realizzazione ossia il finanziamento e tutto l'iter amministrativo per andare poi in gara è evidente che per quanto invece concerne lo studio di fattibilità del ripristino della ferrovia attendiamo ancora formalmente pur se vi sono stati degli incontri al ministero con ferrovie attendiamo formalmente la consegna dello studio di fattibilità che presumibilmente tarda nella consegna perché alcuni numeri li abbiamo già visti in quanto la regione Marche ha chiesto un'ulteriore indagine sulla fattibilità per un collegamento non solo tra Fano e Urbino pur importante ma per creare quell'anello ferroviario quindi Fano Urbino ma un collegamento diretto tra Urbino e Fabriano e tra Fano e Fabriano che sarebbe e rappresenterebbe una linea complementare rispetto all'Adriatica soprattutto anche rispetto alle evoluzioni che noi stiamo vivendo in questi giorni l'investimento di 5 miliardi previsto dal governo nazionale sulla linea Adriatica tra Bologna Lecce che nella visione complessiva dovrebbe portare a un arretramento per tutto il territorio regionale o a un interramento in alcuni casi della linea Adriatica su cui si inserirebbe anche il tratto di Fano Urbino perché non dobbiamo mai dimenticare che nella mobilità regionale non possiamo parlare solo del trasporto merci dai porti di Gioia Tauro a Taranto verso Bologna e verso la Germania ma non dobbiamo mai dimenticare come dicevo che vi è la necessità anche del trasporto passeggeri noi non possiamo lasciare le nostre città della costa disconnesse in caso di arretramento con la linea ferroviaria proprio perché le città si sono ampliate urbanizzate fortemente antropizzate attorno al ferroviare quindi potrebbe essere strategica la Fano Urbino ma con un approfondimento che vedo a volte non viene riportato dai suoi colleghi della stampa ma perché effettivamente noi ci lavoriamo tutti i giorni e gli amici della stampa non possono lavorare tutti i giorni sulle infrastrutture che abbiamo chiesto al Ministero la soluzione di tutte le interferenze lungo la linea è evidente che se ripristiniamo una linea ferroviaria noi vogliamo una linea ferroviaria moderna che si inserisce nel nostro tessuto urbano quindi sì all'anello ferroviario che propone la regione Marche con la soluzione delle interferenze al momento se qualcuno mi chiedesse come lei ha fatto della ciclovia del metauro sul sedime della ferrovia la risposta non è della regione Marche negativa ma la risposta è della normativa proprio perché si sta studiando la possibilità in prospettiva dell'applicazione del libro bianco dell'Unione Europea che vuole il trasferimento delle merci e dei passeggeri su vie navigabili su vie ferrate entro il 2050 la quasi totalità dello spostamento dei passeggeri su vie navigabili o vie ferroviarie è evidente che noi stiamo disegnando una visione complessiva della regione che prende atto di dove sta andando l'Europa e di dove sta andando il mondo grazie grazie a lei ci sono altre domande sì scusate posso prego Anna Marchetti buongiorno dottoressa volevo chiedere questo uno capire l'accesso alla pista ciclabile dal lato della statale due i chilometri che interessano appunto fanno quanto quanti saranno in area protetta e quanti invece utilizzando strade già esistenti c'è la parola all'architetto Goffi sì l'aciclabile fondamentalmente passa in area urbana e nelle parti poi come dire agricole quindi in aree protette cioè non è che passa lungo il fiume è l'aciclabile che passa in area urbana e poi passa come dire parallelamente alla ferrovia a una distanza di vari metri dalla ferrovia quindi non attraversa aree se intende protette aree vincolate con dei vincoli particolari paesaggistici non 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 intendevo scusi non intendevo quello intendevo cioè saranno piste ciclabili protette o si utilizzano fondamentalmente la pista ha per la maggior parte del tracciato un percorso completamente autonomo quindi sarà una pista assolutamente protetta e sotto questo profilo per la maggior parte avrà sempre dei tracciati autonomi ma per la maggior parte avrà proprio un percorso separato e lontano dalla viabilità quindi passa in aree che oggi sono agricole in aree che sono dei parchi poi passa anche attraverso aree urbane dove chiaramente è in affiancamento delle strade ma sempre con una sezione protetta e separata quindi è una pista estremamente sicura sotto questo profilo alcune volte in aree urbane fiancheggiando diciamo le strade o dei percorsi e per la maggior parte invece utilizzando proprio dei percorsi nuovi e anche paesegisticamente interessanti immaginiamo nel momento in cui passa attraverso il parco dell'aeroporto passa in un'area che un giorno avrà un suo fascino e sarà uno degli assi principali del parco i chilometri a Fano sono oltre 5 chilometri e l'intersezione con la statale avviene in prossimità della diciamo dell'intersezione tra la ferrovia e la statale e quindi poi da lì ci sarà il collegamento anche con la ciclovia adriatica e il collegamento col centro città un asse poi il comune di Fano può anche precisare alcuni aspetti perché è un asse che si integra con la rete delle ciclabili che il comune di Fano sta pensando quindi non è solo un collegamento con la ciclabile ma è un percorso che si collega alle ciclabili esistenti alla progettualità del comune e quindi anche un collegamento con il centro storico o un collegamento con i servizi diciamo del territorio grazie architetto non so se il sindaco di Fano vuole raggiungere altro no? l'assessore no? noi vi ringraziamo allora per la cortesia che avete avuto nel seguire questa conferenza stampa ma veramente si apre un nuovo modello innovativo di costruzione di eciclabili per tutto quello che avete sentito vi ringraziamo vi salutiamo e ci rivedremo alla prossima perché stiamo lavorando molto sulle infrastrutture che gravitano anche sulla città di Fano grazie a tutti